Anche oggi mi sono arrivati dei pacchi e queste sono le altre tre penne di scarpe di cui avevo accennato nell'altro video. Andiamo oggi a capire questa qui che è più piccolina e ci creiamo anche questa volta un outfit abbinato. No, l'ho rotto male. Tadam! Non so quale siano. Sono le Dunk Low Retro. Tadam! Queste sono numero 40 e mezzo. Sono lo stesso numero delle Jordan che ho. Andiamo a vedere sempre se mi vanno. E anche queste ce le scambieremo io e il mio ragazzo. Mi vanno. Tadam! Anche queste al piede fanno un'altra figura e dal vivo sono molto molto più belli come anche quelle a Bordeaux. Questo è quello che ne è uscito ovviamente Dunk Low. Questo è un top nero cut out ma sono indecisa se sostituirlo con questo arancione sempre cut out. Secondo me ci sta bene anche verde acqua e arancione e pantaloni neri in pelle. Questo è il look base. Secondo me l'arancione con verde acqua sta benissimo. Stacca in pelle nera e se possiamo usare sta qui argento. Quindi il look è terminato. Fatemi sapere se vi piace, se vi piacciono queste Dunk.